questo è un capitolo un po diverso dagli altri ho scelto proprio di lasciarlo come un capitolo a sé proprio perché potessi accedervi in qualsiasi momento e ripetertelo anche fuori dal corso perché comunque è un po una conclusione di tutto il percorso che abbiamo fatto fino a qui andiamo a ripercorrere un pochino tutto il corpo in un modo molto molto originale molto diverso quindi è una piccola tecnica benessere a portata di mano da fare anche ogni giorno se vorrai ti lascio quindi al prossimo proseguimento di questo video e ti ricordo che sotto nelle risorse da scaricare troverai anche appunto la guida e la traccia di questa meditazione dei colori da fare in qualsiasi momento vorrai voglio regalare una delle mie meditazioni preferite che ho fatto per tanti anni ogni giorno cambiandola ma la base era sempre questa dei colori dell'arcobaleno che mi era stata insegnata ad un corso tanti tanti anni fa ma mi ha aiutato in tantissimi momenti a focalizzarmi su me stessa ad abbandonare quello che erano magari gli stress e le somatizzazioni se hai visto che in questa tecnica si ripercorrono praticamente tutti i colori dell'arcobaleno a partire dai piedi a vedrai non hai ancora visto vedrai che ripercorriamo dai piedi alla testa i colori dell'arcobaleno ti metterò appunto questa immagine qui di fianco per poter ripercorrere anche fuori da questa tecnica comunque i momenti i colori sul tuo corpo e quando avrai una particolare problematica relativa a uno di questi punti che hai già un po' evidenziato prima quando abbiamo lavorato sui chakra quindi ti sei resa conto di avere magari un disturbo collegato a uno all'altro chakra che hai visto essere collegati a questi colori ricordati di focalizzare l'attenzione in particolare su quel colore cercando di sciogliere di portare energia di portare luce di portare cose buone cose positive rilassamento o magari anche proprio portare qualche novità che ti occorre per modificare lo stato di benessere di quella parte quindi ti lascio nella successiva fra poco partirà il video nel quale ci sarà la meditazione ho scelto appositamente di non mettere la musica però se tu vorrai potrai mettere qualche musica di sottofondo molto rilassante per poi accompagnare il tuo rilassamento da ripetere ogni volta che vorrai buona pratica segui questa meditazione in un momento di tranquillità senza disturbo anche se comunque sentirai qualche rumore qualcosa che ti distrarrà ma non te ne preoccupare resta in ascolto e fai arrivare tutte le tue sensazioni per poi lasciarle andare accogliere ascoltale e lasciali andare tutte le distrazioni se ne andranno ora faremo questa meditazione dei colori che ti porterà in un viaggio dentro di te e ti aiuterà a regolare tutti gli organi interni l'orologio biologico del tuo corpo e del tuo sistema nervoso, immunitario, pascolare, linfatico tutti gli organi e i sistemi del corpo funzioneranno meglio aumenterà la tua capacità respiratoria e allontanerai molto bene lo stress tieni dieci minuti per te inizia a fare qualche respiro profondo ora regola il tuo respiro in modo tranquillo e spontaneo sdraiati con le mani lungo i fianchi abbandona il tuo corpo e tutti gli occhi pensa al colore rosso che sale dai piedi fino alla testa come un bagno di colore arriva all'addome e inizia a sciogliere tutti i tuoi muscoli dell'addome lentamente provoca un intenso rilassamento del tuo corpo sale anche fino alla testa ma si concentra nella parte bassa dell'addome rilassando tutti i tuoi organi interni aumenta il contatto con le radici e la terra pensa che dai tuoi piedi nascano come delle radici che si affossano proprio nel terreno mi ispira ed espirando tocca il ventre sotto l'ombelico mentre incomincia ad ispirare immagina che una luce arancione mirora tutta la fascia della tua vita queste sono le tue aspirazioni le capacità i tuoi piaceri ciò che vuoi vivere a modo tuo ti fa star bene e ti dà gioia ispira ed espirando salendo all'altezza del plesso solare sotto al seno con le mani appoggia le mani lì e inizia a visualizzare un sole come un sole che si accende di un giallo brillante immagina la calma che ti invade ti scalda dentro toglie tutto lo stress inspira ed espirando sfiora con le mani il centro del tuo petto e tutto il torace si illumina di verde un verde brillante senti la pace che si sviluppa in te e si allarga nelle tue braccia fino ad uscire dal tuo corpo e toccare anche le altre persone del tuo mondo senti la pace di tutto il mondo inspira ed espirando tocca la tua gola e si accende di blu percepisci l'amore per te stesso la stima chi sei davvero vali tanto non giudicarti ascolta solo il tuo valore e apprezza te stesso te stessa inspira ed espira il blu diventa sempre più importante più profondo inspira ed espirando sfiora la tua fronte con le mani e osserva mentre si illumina di un'intensa luce colorindaco il colore delle calze del cardinale vedi che questa luce irradia intorno a te sono le tue aspirazioni che si fanno strada sei arrivato al punto di volere di più di desiderare di meglio per te concentrati su ciò che vuoi davvero per te inspira e vedi le tue aspirazioni volare e darti tante immagini piacevoli da ricordare inspira ed espirando allarga le braccia aprendole ad imbuto crea un cono di luce viola a partire dalla sommità del tuo capo che si irradia verso il cielo questo è il tuo contatto con il cielo e con l'immersità la tua corona il viola va sempre più in alto e si trasforma in bianco e si collega con l'infinito sei tutt'uno con il cielo e con il mondo e con l'universo inspira e resta qualche minuto a contatto con te stesso con te stessa e scorri nuovamente i colori ad uno ad uno rosso giallo arancione verde blu indaco viola bianco come un arcobaleno bellissimo immergiti nella sensazione di completezza che stai provando resta qualche minuto ancora inspira ed espirando inizia ad aprire gli occhi ritorna nella normalità porta con te tutte queste belle sensazioni e ripeti ogni giorno questo esercizio che stai provando inizia ad aprire gli occhi inizia ad aprire gli occhi inizia ad aprire gli occhi